Guarir non è possibile la malattia di vivere, sapersi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', tu unisci la pipendola, nell'unica maniera, sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi, afferra questo istante e stringi, più che puoi, più che puoi. Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.